I bastardi di Pizzo Falcone 3, serie tratta dai romanzi di Maurizio Di Giovanni ambientata in un commissariato di Napoli. Si conclude oggi, 25 ottobre. Dopo una terza stagione che ha praticamente superato le migliori aspettative a livello di ascolti, arrivano buone notizie per gli appassionati delle vicende che coinvolgono l'ispettore Loiacono e la sua squadra. Proprio oggi arriva la conferma. La quarta stagione de I bastardi di Pizzo Falcone si farà. A dichiararlo ai microfoni di fanpage è uno dei protagonisti della serie. Massimiliano Gallo, l'attore, che interpreta il vice questore a capo del commissariato di Pizzo Falcone, ha anticipato che la produzione Clemart, in collaborazione con Rai Fiction, sta già lavorando alla prosecuzione della serie. La notizia non è ancora ufficiale. Ma fa ben sperare i fan della seguitissima serie. Gallo ha detto. La produzione sta lavorando per farla e anche presto. Perché il pubblico la chiede e vorrebbe vedere di nuovo il commissariato in azione. Non so quando ci sarà l'ufficialità. Ma sono tutti a lavoro. Anche Alessandro Gassman. Che in persona il protagonista principale. Giuseppe Loiacono. Ha confermato l'indiscrezione a Tele7. Non sono solo io. Ma tutta la squadra che non vede l'ora di mettersi a lavoro per la quarta stagione. Grazie.